we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi la vedete già alle mie spalle schermata di caricamento che ci danno questa settimana con il completamento delle sfide ovviamente settimanali la schermata nasconde in mezzo alle fiamme proprio qua guardate dove vi indico il punto esatto dello standardo segreto b6 e dall'altra parte invece b7 andiamo quindi ragazzi nel nostro fortnite apriamo la mappa e come vediamo b6 e b7 è esattamente questo punto di incontro in poche parole ragazzi la roccia più grande che è presente nel lago ghiacciato il vecchio boschetto bisunto sad story se ne è andato anche lui ragazzi in poche parole la cosa che dovete fare è semplicemente una volta completate tutte le sfide atterrare più o meno al centro e senza nessun problema apparirà lo standardo segreto e quindi avrete ufficialmente completato anche la settimana numero 8 mancano solo due settimane ragazzi al termine della season non vedo l'ora di vedere che cosa succederà e ovviamente vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale